Lui è unico nel suo genere, completamente personalizzabile, ad alcuni sembra impossibile. Lui è... Kim! E voi lo sapevate che Kim è Possible? Doesn't matter when, I will be there for you till the very end. Danger or trouble, I'm there on the double. You know that you always can call Kim Possible. So what's the sitch? Call me, beat me if you wanna reach me.